85 km di Troia, spartite Kine Stape, nascente, ciò leda due tun dintorno alla vita della Val de Fassa. Il Troia di Ladins, a Mesa Costa, grazie a un gruppo dell'Uriere metto su dal Comune Generale de Fassa, trova una nuova vita e si mette alla letta dei Fassegni e dei Ghesci, da che è una nuova occasione per girare a piedi e conoscere il tenere di Fassa. Tutto il Troia, che è aperto in direzione antioraria da Pena e ruo fino al forno, è stata fotografata e mappata dalla Forland, società che ha metto alla stampa la guida al Troia di Ladins. Se la Fassa non c'è l'occasione per girare a Crepes, per se uscire di quota, Kine l'estate di smentire tutta quel reticolato dei viei e strade da Bosch, che nel sveglio durea per girare a Pest, per portare da Montjul Fenn e per girare a Semmenera accesa la legna. Un'arpegione storica che, con la guida del Troia di Ladins, trova una nuova vita per, generalmente, la nostra gente debattere i viei e sorrisi, di fare Pampian, col gusto di fare, tanto di Dut, un percorso del gremio storico di Fassa. L'obiettivo che mi aspettassero è che, soprattutto noi che stavamo in Parassane a girare a Pè, senza correre, ma osservare i particolari. perché io credo che, dopo queste strade, che per altre delle strade, le dute antiche, fatte da Pastres e fatte da Chichesia Zamont, scoprirono delle cose, sia architettoniche, che merita attenzione, sia geologiche, 250 milioni di anni fa. Tu dici, ma questo passate da una roba di 250 milioni, mi pressa in furia, senza dire, coca è ricca madre natura. Quindi io mi aspettavo, che dalle scuole e la nostra gente vai a Pè su che strade di Ladins. E ora, ovviamente, se va a chiuso da Chio, sono convinto che va a modo di più i nostri gatti che vanno in quartiere e in alberghi. Te la guida per trovare tutta l'orografia della valle, tutta la mappa con i vecchi segni di violetta e di sale e con tutta la deviazione per chi che non è, che è la definire la tappa in Tria. La roba da vedere in legge al Troi di Ladins le sei da se ne troppi. E a questo l'oriero ha voluto dare sia contributo scientifico tra la collaborazione di Evelyn Bortolotti e anche l'Istituto Cultural Ladins che alla pubblicazione ha aggiuntato informazioni e approfondimenti d'entorni via i sedimi e le esce importanti per la storia della fascia che si è trovata in ogni tappa. Credo che questo Troi di Ladins possa diventare un Troi per i Ladins e quindi che si è durata non da parte delle forese ma anche delle nostre aziende. Perché dopo questo Troi sapeva scorrere la nostra storia che è la più grande valuta che è la nostra valle e quindi ha una valuta culturale ma anche una valuta anche spirituale perché dopo Troi sapeva fare un percorso interiore dal daite di noi altri e anche se contro qualcuno si può ragionare con gli altri e si può ragionare di grande importanza anche quando la valuta è stata ben economica ma anche se non è la mia valuta ma anche se non è la mia valuta che è la mia valuta spirituale che è da recuperare da queste strade. In Luriero la che ha aperto dei sbagliati soggetti dal Caisat al BIM che ha dato il metto per la spesa di stampa e infine alla forestale e i spiorni del bosco appena alla soddisfazione del gruppo dell'Uriere con la chef Alfredo Weiss anche l'appresiamento dell'azienda per il turismo e di accompagnatori dei territori che con questo strumento ha realmente di valorizzare anche a livello turistico in Troi che per molte delle tappe già era durata la ride a modo della presentazione della guida. Siccome è in Troi che è sempre stato sempre vivuto noi accompagnatori dei territori che sono stati per me apposta per poter fare questi percorsi oltre che i botanici ambientalisti della natura le cose che fanno anche nella cultura anche nelle gese anche nei percorsi e nella vita dei noi ladini perciò questa è una formazione che noi abbiamo avuto e abbiamo sviluppato e ciò che sviluppò questa dei Troi dei ladini questa nuova guida che i doki fanno che i doki presenteranno sarà la combinazione e la collocazione di tutte le nostre conoscenze. di